E' un grande applauso subito a tutti i amici di Citi, grazie. In particolar modo consentite, che essendo io il direttore di questo conservatorio, signor Bocca, grazie. E' un grande applauso subito a tutti i amici. E' un grande applauso subito a tutti i amici. E' un grande applauso subito. Un grande applauso subito. E' un grande applauso subito a tutti i amici. Vi ricordo che ovviamente Beniamino Gigli, il suo ricordo non finisce con questa serata, oltre alle diverse sezioni. Un applauso. La vita, ovviamente, professionale, calata. E' un po' di rito, ovviamente. Ilaria Vanacore. Ilaria! Ilaria! Washington, Katrin. Katrin! Katrin! Maria Rita Combattelli. Maria Rita! Bravissima! Bravissima! Si chiama Don Ngo Kim. Don Ngo Kim. Gravissima! 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 Gravissima!